Ad Apricena c'è il secondo bacino marmifero d'Italia dopo quello di Carrara in cui lavorano 1500 persone. Il settore lapidio è regolato da un reggio decreto del 1927 e secondo molti addetti ai lavori non è in grado di fotografare le criticità attuali. A lanciare l'allarme in particolare la Steel Marmo, azienda operativa da 30 anni, che ha inviato una lettera al Premier Draghi per sollecitare l'avvio di interventi a sostegno del comparto, che rappresenta all'1% del PIL nazionale. Innanzitutto manca un vero credito marmifero, servirebbero prodotti finanziari studiati per l'esigenza del settore, come avviene per agricoltura, pesca ed edilizia. È necessario prevedere agevolazioni per il costo del carburante e marchi di tutela per la pietra ornamentale, che non utilizza prodotti chimici e deve difendersi dalle contraffazioni. Nel campo delle risorse minerarie l'Italia ancora non si è attivata per valorizzare i propri prodotti, nonostante le sollecitazioni dell'Unione Europea. L'appello che rivolgo al Premier Draghi sostanzialmente è quello di avere maggiori attenzioni, in questa occasione quella del Recovery Plan, per il settore marmifero del sud. La pietra di Apricena è apprezzata in tutto il mondo, ci sono edifici, alberghi sparsi in tutto il mondo che hanno utilizzato e che utilizzano la pietra di Apricena. Qual è la caratteristica della pietra di questa zona? È il calcare più duro al mondo e da punto di vista cromatico abbiamo così tante varietà che è anche difficile contarle.